E 40 milioni di americani la credono un uomo Venerdì alle 20 e 30 Una commedia di John Ford con Jack Lemmon e Henry Fonda Hai sprecato una bottiglia di whisky con un uomo Esiste un altro sesso entro un raggio di mille miglia Non mi ricordavo più come era fatta una donna La sera della festa di Dac Il mio dentista mi dà sempre dei buoni consigli Io ho molta fiducia nei consigli del mio dentista Quando è necessario disinfettare le gengive È consigliabile l'uso di un dentifricio medicato Per questo uso AZ-15 AZ-15 con i suoi componenti salini Disinfetta le gengive mantenendole sane AZ-15 il gengi dentifricio Metti in pratica i buoni consigli Lo trovi in farmacia? AZ-15 anche il vostro dentista se ne accorgerà Ciao come va? Oh com'è dolce l'aria Soffice come me coccolino E che profumo di primavera Fresco come il mio nuovo profumo Tutto è così morbido Fresco Con il mio nuovo profumo Mi vorrei ancora più bene Nuovo coccolino e coccolino concentrato E tutto diventa morbido Come me Come me Premium Sider Lievita per ben un giorno e una notte Senza fretta Perché solo così un cracker può diventare tanto buono Premium Sider Un giorno e una notte di lievitazione Senza fretta In un semplice gesto Tutto il gusto del mare Tutta l'energia Di un alimento completo Più sardine Più vitamine Nutrienti leggere Sardine all'olio d'oliva Più sardine Più vitamine Grana padana Primo Secondo E terzo